bentornati al bolive io sono antonio masseriolo quest'oggi parliamo di clima ma di clima di scienza del clima e quando parliamo di queste cose ci rifacciamo sempre delle proiezioni queste proiezioni però sono basate su dei modelli matematici per capire di cosa stiamo parlando ci viene in aiuto il nostro ospite buongiorno dottor pasini buongiorno a lei dottor pasini allora quando parliamo di modelli del clima partiamo subito dalla prima domanda la più semplice che cosa sono i modelli del clima ma i modelli sono un modo per ritrovare diciamo così la scienza galileiana non in un laboratorio reale ma in un laboratorio virtuale cosa vuol dire questo che sostanzialmente noi abbiamo a che fare con un sistema estremamente complesso i cui singoli pezzi diciamo così l'atmosfera il mare le piante i ghiacci e così via noi possiamo studiarlo in un laboratorio ma quando vogliamo andare a ricostruire la complessità di questo sistema non riusciamo a farlo in un laboratorio reale un po' per motivi di scala no perché ci vorrebbe il famoso pianeta b di cui parlano i ragazzi di friday's for future che non abbiamo per fare esperimenti no quindi non possiamo permetterci allora che cosa ci siamo inventati di andare a fare esperimenti in un laboratorio virtuale che sono i nostri super computer cosa facciamo noi sostanzialmente immettiamo tutta la nostra conoscenza teorica dei singoli pezzi del sistema con equazioni in cui c'è dentro anche la variabile tempo per cui sono equazioni evolutive che ci danno la possibilità di ricostruire per esempio il passato del clima e di prevederne il futuro e cerchiamo di simulare il clima lì dentro ovviamente non è un gioco puro a se stante a se stesso perché ha molto a che vedere con la realtà nel senso che là dentro ci sono delle variabili che noi nella realtà possiamo misurare e quindi noi possiamo capire se i nostri modelli sono dei modelli validi cioè che per esempio ricostruiscono bene il passato oppure no e dottor pasini quando è che abbiamo iniziato a fare queste previsioni sul clima lei naturalmente ha parlato di computer possiamo individuare quello come il momento principale sulle previsioni oppure c'erano anche prima ma ovviamente c'erano anche prima con altri metodi però ecco questo recupero della galileianità diciamo così è arrivata con i modelli alla fine degli anni 70 cominciando con modelli che fossero che erano addirittura soprattutto meteorologici e poi per estendere diciamo la platea a tutti quegli altri sottosistemi del clima come dicevo l'oceano e così via insomma. E dottor Pasini la domanda magari più difficile di tutte sono affidabili questi modelli? Sono sicuramente il miglior strumento che abbiamo riescono a ricostruire in maniera molto soddisfacente almeno oggi il passato del clima non soltanto per le variabili immediate su tutto il globo ma perché ci danno anche una visione di quello che succede nelle varie zone insomma e così via hanno ancora un po' di difficoltà a ricostruire la variabilità climatica interna cioè quelle fluttuazioni che ci sono da un anno all'altro, da un decennio all'altro però diciamo che la tendenza di aumento in particolare della temperatura e di altre variabili la prendono molto bene insomma. Dottor Pasini lei ha parlato di passato, lei con il suo team di ricerca ha realizzato una simulazione del passato con dei modelli completamente differenti. In che cosa appunto si differiscono e quali sono stati i risultati? Sì ma dunque noi sappiamo che questi modelli sono abbastanza criticati al di fuori dell'ambiente dei climatologi diciamo così perché ci dicono beh insomma la nostra conoscenza teorica del sistema tutto sommato non è così ancora perfezionatissima per cui potreste non includere alcuni fenomeni che sono importanti e così via per cui non è detto che questi risultati siano certi o comunque siano molto affidabili. Allora noi abbiamo voluto fare una sorta di prova del 9, oggi esistono dei sistemi in particolare sistemi di intelligenza artificiale, modelli a rete neurale che imparano da soli dai dati, quindi un modello che funziona in maniera assolutamente diversa noi non diamo nessuna conoscenza teorica pregressa al modello, il modello impara dai dati il funzionamento del clima, esattamente come un bambino impara a camminare in una stanza inizialmente va a sbattere contro i tavoli e contro le sedie e poi piano piano aggiusta le proprie sinapsi, le proprie connessioni nel cervello e impara le regole di come camminare in una stanza. Bene, questo lo fa anche il nostro modello col clima e innanzitutto riesce a ricostruire molto bene da partire dalle forzanti esterne, quindi la luce solare, i vulcani, l'emissione di gas serre in atmosfera, la deforestazione, quella che è la temperatura media globale degli ultimi 150 anni e poi siamo comunque in un laboratorio, possiamo fare esperimenti, abbiamo chiesto a questo modello, come chiedevamo ai modelli classici del clima, cosa sarebbe successo se gli influssi umani fossero rimasti fermi al valore di metà dell'Ottocento, bene, i modelli entrambi, sia quello dinamico classico che il nostro, fanno vedere esattamente che a partire dagli anni 60 in poi, se non ci fossero stati gli influssi umani e se non fossero cambiati così tanto, la temperatura sarebbe rimasta sostanzialmente costante, invece di avere questa grossa ascesa e ripida ascesa che ha avuto negli ultimi 60 anni. Quindi cercando di riassumere in modo magari semplicistico e se sbaglio mi dica pure, la colpa, la vera colpa del cambiamento climatico degli ultimi 30-40 anni è attribuibile tutta all'uomo? Assolutamente sì, per l'ultimo secolo la maggior parte di questa colpa è dell'uomo, esistono ovviamente anche degli influssi naturali ma hanno una minima importanza in questo momento. Dottor Pasini, noi la ringraziamo molto e ci risentiremo sicuramente in futuro, intanto le auguro buon lavoro. Grazie altrettanto a lei.